Sono Diego Lissi, sono un corridore del team Emirates. Sono qui da quando è nata la squadra e spero di farne parte ancora per diversi anni. Ho capito che volevo diventare un cilista professionista quando avevo 17-18 anni. Ho vinto il campionato del mondo da juniores e da lì mi si sono aperte le strade al professionismo. È stata la realizzazione di un sogno perché ho iniziato a pedalare da quando ero veramente bambino per gioco e da lì più passavano gli anni e più il mio desiderio era quello di diventare un cilista professionista. Quando ho vinto la prima tappa a Giro d'Italia è stata una bellissima emozione perché per un italiano è la gara dei sogni, la gara che vedevo da piccolo con i miei nonni e tutto. Insomma, essere lì e vincere, essere il protagonista è qualcosa di bellissimo. Ne ho vissute molte di esperienze in campagnolo sin da quando sono passato professionista nel 2010. Quindi ho vissuto la parte elettronica e non e appunto, diciamo, è stato l'arrivo dell'elettronico e del cambio elettronico la parte più bella, insomma, che è stata l'innovazione della precisione e della cambiata, insomma, è quella che ricordo, diciamo, più volentieri. Le campagnolo Bora sono eccezionali. Io uso sia le 35 che le 50, hanno veramente una grandissima scorrevolezza e leggerezza, soprattutto le 35 le uso sempre nelle tappe di montagna. Poi le WTO nelle tappe pianeggianti hanno veramente una scorrevolezza ottima. Poi le WTO nelle tappe pianeggianti hanno veramente una scorrevolezza ottima. Grazie. Grazie. Grazie.